Il Partito Democratico e Terre Libere hanno proposto e sostengono i candidati alla lista numero 3, invitandovi a votarli domenica 5 giugno. Aiutateci a sconviggere chi non lavora per il bene comune e salviamo Capodrise, votando la lista numero 3 Unione Democratico per Capodrise, con dopo sindaco. Lo slogan del dottore Topo è tutta un'altra storia e questo qua l'abbiamo capito bene, ma il mio slogan è Capodrise non merita di meglio, ma merita il meglio e con voi si può. Passo la parola al dottore Topo.